e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui per farvi vedere questo nuovo film in dpd dal titolo Godzilla dai creatori di Independence Day questa è l'immagine di copertina con l'occhio di Godzilla non vedere un laterale Godzilla questo è il retro Godzilla è tornato reggete di forte Godzilla è tornato alcuna piccola trama alcune immagini del film i contenuti speciali il menu interattivo visione di un presenza di un adulto questo è il retro e questo è il dentro molto spoglio con una semplice dischetto che è un'immagine di copertina niente di eccezionale e niente ragazzi non ti piace commentate iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti belli